Si terrà il 19 dicembre alle ore 19 il Consiglio Comunale di Eboli. Otto i punti all'ordine del giorno, la maggior parte dedicata ai debiti fuori bilancio. A chiudere il cerchio la variazione di bilancio approvata dall'Aggiunta il 30 novembre scorso. La seduta, come di consueto, si terrà nell'aula consigliare situata all'interno della sete comunale di Via Matteo Ripa.